Come opera la CIA. FGCI, 10 agosto 2017. Estratto dal libro, L'arte dell'intelligence. All'N.W. Duls è stato direttore della CIA tra il 1953 e il 1961. All'N.W. Duls, ex direttore della CIA scrisse. Seminando il caos nell'Unione Sovietica, sostituiremo i suoi valori con altri falsi senza che nessuno se ne accorga, e obbligheremo la gente a credere ai falsi valori. Incontreremo i nostri alleati e compagni in Russia. Episodio dopo episodio si darà vita, per le sue proporzioni, a una grandissima tragedia, quella della morte del popolo più potente e irriducibile sulla Terra. La tragedia della definitiva e irreversibile estinzione dell'autocoscienza del popolo. Faremo scomparire l'importanza sociale della letteratura e dell'arte. Svoglieremo gli artisti. Faremo in modo che non abbiano più nessuna voglia di dedicarsi all'arte e alla scoperta dei processi che si sviluppano all'interno della società. Letteratura, cinema e teatro dovranno riflettere e elogiare i più bassi sentimenti umani. Appoggeremo e finanzieremo in tutti i modi possibili gli artisti che cominceranno a seminare e inculcare nella coscienza umana il culto del sesso, della violenza, del sadismo, del tradimento. In una parola, qualsiasi tipo di immoralità. Verso lo Stato creeremo caos e confusione. In maniera impercettibile incoraggeremo il disputismo dei funzionari, la corruzione, la mancanza totale di principi. L'onestà e l'integrità saranno ridicolizzate e considerate non necessarie e un retaggio del passato. La sfrontatezza, l'insolenza, l'inganno e la bugia, l'alcolismo, la droga, la paura irrazionale dell'altro, il tradimento, il nazionalismo, la lotta tra popoli e prima di tutto l'odio verso il popolo russo, coltiveremo accuratamente tutto ciò finché fiorisca come il bocciolo di un fiore. Solo in pochi inizieranno a sospettare e si renderanno conto di ciò che sta realmente accadendo. Queste persone saranno messe in una posizione di debolezza, verranno ridicolizzate, troveremo il modo di calunniarli, screditarli e marchiarli come rifiuti della società. Faremo sembrare pacchiani i fondamenti della moralità, distruggendoli. La nostra mira principale sarà la gioventù. La corromperemo, pervertiremo, la renderemo immorale.